Quattro anni, sì o no? Dai Luca! Dai Luca! Non puoi andare a me, metti quattro anni! No! Ma no ragazzi! Ma no! Ma Luca Barbarossa! Ma... E di Sanremo come canzone? Sarremo ma... Ah! Sì! Può essere più giovane? Può essere più giovane! Martina, Luca Barbarossa che cantava questa canzone! Ciao mamma, ciao! No! Andiamo a vedere di quanto vi siete sbagliati! Allora, vai! Partiamo! Centomila, fate una foto, un selfie, ciao ciao! Un anno, mille, due anni, duemila... Trent'anni! Tre anni, tremila, infatti, 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 quattro anni! Sì, sì, sì! Sembra giovane... Ventotto! Ma in realtà il nostro Luca secondo me ne ha ventotto, vero? Luchi? Sì! Ventotto anni, ventotto! Che mamma di no! Continua a dire che Luca mi ha portato con il giro! Esatto! Ma come ho trovato? Luca, da dove vieni? Guarda uno, improvviso di Oristana, mi serve! Oristana, io! A noi piace il fatto di Oristano! Ma mi fai sentire un po' una cosettina proprio come... Come si chiama questa fisarmonica? Organe!